La macchina dei soccorsi è già nel pieno dell'attività, sul porto ci sono i volontari della Croce Rossa Italiana, medici, infermieri, ci sono anche le forze di polizia per accogliere oltre 1500 disperati del mare di cui ancora al momento non si conoscono le condizioni di salute. Quello di oggi è il più imponente sbarco che si è mai registrato qui al porto di Vibo Marina. Andiamo a vedere nel dettaglio questo campo che è stato allestito, ci sono tantissime tende adibite a pronto soccorso dove saranno presi in cura i casi meno gravi come donne in gravidanza, ce ne sono molte, così è stato almeno segnalato e i casi più gravi ovviamente saranno trasportati all'ospedale di Vibo Valencia. Dottore, qual è la situazione? Non abbiamo notizie certe per quello che dovrebbe essere lo sbarco, si vocifera che è uno sbarco molto difficile perché stanno viaggiando senza medico a bordo, quindi non abbiamo contezza di cosa ci arriva, però memori della situazione drammatica in cui ci siamo trovati l'altra volta abbiamo predisposto, questa volta, il doppio delle attività di quanto è stato lo sbarco del 5 febbraio. Tra volontari e personale medico quante persone sono attualmente impiegate? Dovremmo essere circa un 5-600. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24.